La pagina sportiva parlando del Civitavecchia Calcio, il mercato infatti della società nerazzurra si prende un attimo di stop. A quanto afferma il direttore sportivo Iannicelli che dopo il poker di acquisti di mercoledì sera ferma per qualche giorno le trattative in attesa dei primi allenamenti sul campo e del passaggio di proprietà. Non abbiamo fretta impellente di costruire la squadra, spiega il DS Bernardo Iannicelli, perché abbiamo già posto le basi seguendo le indicazioni di mister Castagnari. Ora vedremo l'allenamento di lunedì i ragazzi di Roma e poi proseguiremo con i nostri contatti. Il campionato inizia il 15 settembre e da qui all'ora tante cose possono succedere. La CPC annuncia alcune novità nel proprio organigramma. Il nuovo preparatore atletico sarà infatti Diego Michesi, mentre il nuovo tecnico della Juniors sarà Nico Rogai, ex Sampio X. Per la prima squadra arriva invece in porta Luca Nunziata, ex del Chievo. Finalmente ufficiale l'arrivo del centrocampista Cascianelli per il tolfa a calcio. Il mercato dei collinari si è mosso anche nel settore under con gli arrivi di Marani, di Carlini, Feoli, Papi e di Marco. Prenderà il via domani sulla regnire della spiaggia del Castello la quindicesima edizione dell'Italia Surf Expo, che chiuderà i battenti domenica. Si raggiungeranno anche quest'anno le 20.000 presenze che si ritroveranno nella bellissima location ai piedi del Castello Medievale. La manifestazione gode del padrocinio della regione Lazio e della provincia di Roma, del comune di Santa Maniella e della Federvela. L'appuntamento per tutti è per le prime ore del mattino con un calendario fitto di eventi sportivi e fashion style che rendono l'Italia Surf Expo un happening vivacissimo e irrinunciabile per chiunque sia amante del mare, del beach style e degli action sport fino ai mitici beach party. Bene è tutto per quanto riguarda il Tg Alto Lazio, l'appuntamento è a domani, salve a tutti.